Buonasera a tutti dal mondo in pigiama, questa sera volevo presentarvi la mia amica conquilina, conquilina charlotta. Vai! Ma cosa vuol dire conquilina? Io non sto con le aquile, capito? Ma non vuol dire quello, charlotta, comunque, allora, spiegali cosa vuol dire conquilina, prima di tutto. Ah, andiamo bene, non lo sai nemmeno te, va bene, te lo dico io. Conquilina vuol dire che conquista, conquista lina. No, charlotta, poi chi è lina? Eh, lina, una mia amica. Vabbè, ma a noi non ci interessa che amiche hai. Ah, vabbè, scusate, siete anche sociali, va bene. Comunque, ve lo dico io, conquilina vuol dire una che vive nella stessa casa, assieme a te. Ah, ma allora deve scappare, deve andarsene perché c'è il coronavirus. Io non voglio avere ospiti indesiderati, potrebbe essere infettata. Ciao, vattene. Che? Tu? Io? Non io, io sono sana. Tu non lo so. Io? Anch'io sono sana. Vabbè, basta, se vivete da una vita insieme, non avete neanche bisogno di separarvi. Vabbè, ma non è la mia fidanzata, eh? Scusami. Certo che siamo fidanzati. Ma smettila, a me non piacciono le femmine. Ciao. Io c'ho il fidanzato e si chiama Giampiero. Qual era il mio fidanzato da piccola? Quello era Giampiero. No, Giampiero. Questo è italiano. E qual era mio? Questo invece è italiano. Comunque, a proposito di Italia, io mi chiamo Charlotte e vengo dalla zona rossa, Cioè, da Torino. Non vieni proprio da Torino, vieni dalla provincia di Torino. Ma sì, va bene, stiamo a sindacare, specificare, perché poi fanno come gli altri che vengono a cercarci, vengono negli appartamenti, cercano lasciarli, vogliono sapere dove lasciarli, vogliono... Vicky, mi stai facendo ombra? Ci stai facendo ombra nelle riprese, togliti. Oh, ma questa che rompe palle. Oh, ha avuto almeno un'idea fantastica. Guarda che bella luce, questo riflettore. Allora, va bene, bando alle ciance assurde. Facciamo un discorso concreto. Allora, innanzitutto volevo dire... Che... No, non mi piace la luce che mi fa sta cosa. Va bene. Va bene, così sembra un mostro. No, non so, non mi piace. Comunque, oggi la Vicky stava facendo i compiti, no? Sì. La mia coinquillina. E insomma, in questo periodo, siamo in una situazione in cui non si può andare nemmeno a scuola. Lo sapevate? E allora la Vicky è sempre in casa a rompere le scatole con questi compiti. E non mi lascia stare, perché una volta si andava a scuola a otto ore e non la vedevi. Otto ore? Certo. Certo. Non ti rendi neanche conto di quante ore stavi a scuola? Vabbè. E questi rumori? Chi sono? Vabbè. No, stiamo a sindacare. Comunque, dicevo che la Vicky deve stare a casa a rompere le scatole con questi compiti, perché non può andare a scuola. Quindi, stavo facendo i compiti e io ovviamente, perché sono una bambola super intelligente, le stavo dando una mano. E ho scoperto una cosa. Ma che dici, Sarlotta? Certo, io ho studiato. Ma non mica sei venuta là sul tavolo a dirmi, Sarlotta? Tu stai zitta. Non fare scoprire gli allori. A parte che si dice altarini. E quella è un'altra cosa. Vuol dire dormire sugli allori. Sì, vabbè, quella lì. Ho mischiato un po', dai. Tu stai zitta anche tu. Comunque, dicevo. E la Vicky studiava degli uccelli. Però, ho scoperto una cosa. Che è una parola nuova. Ho scoperto. In questo compito. Con il cane. Con il cane. Tu stai zitta. Devo parlare io. Oh, sì? Sì. Piantala. Ok. Quindi. Quindi. Ho scoperto. Cosa sono i belli cani? Voi lo sapete? Bene. Io l'ho scoperto. No. Sapete cosa sono? No. Ebbene sì. Sono dei cani coi peli. Fa ridere, vero? Sì. Ma perché fa ridere? Ma perché ridete? È vero. Sono cani coi peli. No, in realtà sono cani. Ma sì. Ma cosa sogni? Mai visto dei cani coi peli volare? Io non ho mai visto dei cani con i peli volare. I peli cani sono cani coi peli. E non volano, capito? Va bene. Poi cosa hai scoperto anche? Hai scoperto qualcos'altro, Charlie? Ma non mi chiamare, Charlie. È bruttissimo. Ehi, Vicky, ma ci sei ancora? Non parli più? Che domande mi vuoi fare? Fammi qualche domanda. Domanda, siamo coinquiline. Non mi parli più? Allora, innanzitutto per l'intervista, vorrei chiederti la prima domanda che fanno nell'intervista. Cioè? Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Charlotte. È tre ore che lo dico. Ma questa è che sei imbambita? Seconda domanda. Quanti anni hai? Tre. Quattro. Quattro. Vabbè, mi ero sconfosa. Comunque. Noi. E poi? Il tuo cognome. Giornottina. Vabbè, questo non lo so. Non lo so, perché io non ho il cognome. Allora, il tuo colore preferito. Ma non mi chiedi? Guarda come sono vestita. Ah, il bianco? Certo. E il tuo hobby preferito? Sparare cavolate. L'hai immaginato? Comunque. E per... Cosa c'è? Cosa mi diventa? Un'altra domanda. Ti buttano in piedi? No. Adesso no, perché li ho messi profondi? Eh, ma da quanto tempo ti lavi? Ma cosa, che domande fai? Ma pianta la, ma pensa per te. Guarda te. Guarda. Stai con una lampadina in mano. Cosa ti credi di fare? Di illuminarti? Certo. Va bene. E adesso... Sapete perché? Vabbè, ho perso le battute. Bene, faccio io una. Sapete cosa fa un commino? Ah, ma sì. Ma ascolta, eh. Mi è venuta proprio un'idea. E penso che sia vero. Sapete che? Sai che? Ma se ci sono i cani e i pelli? Se ci sono i peli cani, ci saranno anche i peli gatti. Ovviamente non ci sono né... L'ho messo in pausa un attimo. Comunque... L'altro giorno ero con il mio amico, no? E lui mi ha detto, no? Perché in questo periodo, no? C'è da stare in casa, no? Sì. Tu te ne sei accorta? Eh, certo. Ci sono tantissime cose da fare in casa, più divertenti. Ma tu stai in casa? Eh, certo. Dove sono adesso? Vabbè, adesso sì, perché vai a dormire tra un po'. Ma di giorno stai in casa? Certo. Vado solo in cortile. Oggi sono solo andata in cortile a provare la bici. Ah, ok. Ma perché? Era rotta? No, è che se solo devo dirti un segreto. Che cosa mi dirigerà? Io vado ancora in cortile a cercare di poterle. Ah, ho capito. Ah, ho capito. Dove è riuscito? Va bene, parliamo d'altro. E niente, non sa perché... Sapete che... No, aspetta, aspetta, non so parlo d'altro. Sapete che io ho un'amica armena, no? Che si chiama... Anastasia. Si chiama Anastasia. Sì, quella. Te l'avevo creata io. Quando sono andata tipo a Natale, no? Tipo alle tre di notte? No, era la festa di Natale, no? Adesso sembra che parli tu o me a nascerlo. Sì, è perché quando io poi prendo a parlare... Che dopo che sto con lei, parlo come lei, con il suo accento, capito? E sono andata alla festa di Natale, no? E c'era quella lì. C'era la sua mamma, no? Che ha detto, no? Era lì e ha detto... Stava arrivando poco a Natale, con le sacche, no? A un certo punto c'era la sua mamma tutta presa, tutta convinta, e le fa Anastasia. Anastasia! Anastasia, vieni, corri! Guarda quanti regali che ce li ha! Guarda quanti regali ce li ha! Che ce li ha! Regali ce li ha! Ma cosa volevo dire? Non si capisce? A me l'ho fatto solo ridere. Quanti regali ce li ha! Ma che italiano è! Ma tu ti rendi conto... Ti rendi conto che... Non parli neanche bene tu l'italiano. Certo! Ma perché io sono francese? Oui, merci! Sì, grazie. Cosa mi dai? Ehm... E detto oui, merci, si grazie vuol dire... Cosa mi dai? Ehm... Devo dire si grazie io, dici si grazie tu. Allora... Io ti tru... Io ti tru... Oui, merci! Un mucello. Sì, mi si dici un mucello in francese. Non. Oh, Dieu! Ah! Oh, Dieu! Oh, Dieu! Sì! Io so tutte le parole francesi. Chiedi me ne una. Pinnarello. E queste difficili parole... Cambio? Certo, perché non è che le supporto più tutte. Hai detto tutte? Sì, sono nata in Francia, però addirittura a pennarello. Ehm... E poi cosa vuol dire pennarello? E la penna di Lello? Questa è una battuta che non dobbiamo ripetere. Sì, ok. La penna di Lello. No. Allora... C'era una volta? C'era una matita? No. Una matita? Una matita? Che... C'era un bambino, no? Che andava... Ah, ma avete finito di ridere? C'era un bambino, no? Che andava... Che andava a scuola, no? Poi la maestra... La maestra, no? Non aveva la penna, no? Allora... Gli ha detto... E lui si chiamava Lello, no? Allora, io gli ho detto alla maestra... Senti, Lello... Io non ho la penna... Mi dai la penna, Lello? Allora... E' nato così il pennarello. Ma non è il pennarello, è pennarello. Comunque il pennarello... Ah, ma il pennarello... Ma allora potevi dirlo prima... E l'ho detto, eh. Pennarello. Pennarello è la penna... Con righello. Con il... Righello. Vabbè, dopo questo è il ciarlotto. Comunque... Fa piangere, no? Io sto piangendo da ridere... Comunque, no? Adesso, dopo aver detto questo, vi racconto uno scoop. Prima la bichi, no? C'è la bichi, no? Allora, con il c'è...